Evitiamo di morire nella missione dello Starhawk ok vai io dai merda allora dai Aia Allora Qui Dai cazzo Oh una è andata Mi stanno massacrando Allora Il problema è che io non ho virate Aspetta che qui c'è qualcosa Allora Ok Ok Un'andata L'alta è lì L'alta non è andata Su Allora Fammi schioccare La mannibola Refuge Ok Ok Ma la star destroyer Non può aiutarci No Allora Andiamo prima lui Dai Ok Dai Su 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 Ottimo E vedeci Ne manca uno Ok Non ho più visto Un cazzo Ma Per un attimo Ho diventato Completamente cerco Oh Quantità tv di vita Non è male Ok Ok Cazzo Allora Ho fatto una Manovia Bizzarra Oserei dire Ok Vai No Penso di uscire Ok No Boh Niente In sta missione Soffro come un cane Io non so cosa sto sbagliando Ma sto giocando a cazzo Esattamente Come ho giocato Poi meno le altre missioni Non ho fatto grandi Differenze È sotto la storia di storia Occhio Ok Bello Bello Come l'ho detto Ok Andata Ottimo All corbettis Ok 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 No Vabbè Dai Ti perdono Ok Va bene Va bene Allora Ok Aspetta Cazzo No No Aspetta Che Basta colpirmi Non posso contattaccare Se siete troppi Aspetta Cos'è che io devo Danneggiare Danneggiare In generale Allora Allora Ok 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 Aia Aia No Volevo girare Io mi ero girato Girati Dio mio Cioè Io 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 Non posso fare Molto più così Caputano Ok Sbagliate Andano qui Alla scala Cristo santo Non è possibile Mi vale un minuto Ancora Ma io Non posso Togliergli Tutta quella vita In così poco tempo Aspetta A meno che Io non debba Basarmi su Quello No Ok No 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 Non rimanca niente Ok E' quello Che devo Attaccare Ottimo Andato 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 Ok No Titus No Non Mio dio, è stato complicato questo. E ora mi aspetto di essere da parte dell'alleanza, è pubblico. No, ancora l'impero. Il buono è che non è esattamente la più furba della compagnia. Capisco non essere esperti di strategie militari, ma ci vuole molto capire che questo è il momento giusto. Vengeance è buona, non è? Ma non è il momento di essere complesso. Ho aspettato molto lungo per lasciare l'indirizzo di nuovo. Admiral Sloane è diventato che il Starhawk sia distruttato, ma non possiamo iniziare direttamente. Il trattore è troppo potente. Inoltre, dobbiamo forciare loro in la Ringali Nebula. L'argomento e il loro battaglia scegliere da la storia. L'argomento ha chiesto di servire. Non possiamo iniziare. L'argomento è finito. 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 è tu, che prevede questa avvantaggio corretto. Destruisci alcuni repubblici starfightersi che cercano a scoprire i risultati del debri. Voi tanti soli potrebbero sfruttare contro la fletta più grande. Detonate le corde per uscire. Se tutto funziona con il plan, un starhawk sarà oltretto in vostro minefield, o sarà forciato a divirti nel nebulo morto di Ringali. Inoltre, noi vengiamo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti A volte io mi chiedo perché continuo a cliccare sui dialoghi No Odio questo Sto avendo sul cazzo E' lentissimo Ok Però credo che sia lì da migliore E' quello che avevamo prima E' quello che avevamo prima Oh ceccfff il bagno Mi bello è da è da oggettá si senti illa è quello vuoi un'esercizio materiale quanti diversi distruttori credi che si lasciarono qui? e cosa ha fatto la Repubblica con loro? non importa, non possiamo cambiare cosa accadde tutto ciò che possiamo fare ora è portare la vengenza prima di essere finito oggi questo sarà un'esercizio di rebel quindi dovevo controllare una cosa è il punto in cui eravamo 4 ore e mezza sulle serie di video quindi mancava ancora un paio di video ovviamente sulle serie di video ho inteso come il work tour da cui mi sto basando per capire quanto dura meglio allora è un'esercizio di attività è un'esercizio di attività e i resti sono utilizzati entro? è un'esercizio? è un'esercizio di attività è non attività il attività è un'esercizio quindi è uscindibile per noi destrugare e move on ok ok Aspetta 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 Ok Tu Quanto cazzo è lontano Va bene Dirigiamoci Ma il polso Non credo di aver aiutato Molto però Beh questo tecnicamente attivo Nell'ultimo L'unico No C'erano altri Scherzavo Andato Andato I sudi di caccia da un'ora è pubblica Allora Allora Ok così Ma non ce n'è bisogno Ok Ok Dai Ok Ma basta con sta stonsata Allora 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 Ok 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 Un attimo mi si hanno disattivati i sistemi Andato Andiamo La fine del campo minato Noi Noi lo lasciamo lì Lasciamolo lì Noi lo lasciamo lì Non andiamo Ok Non vedo un cazzo Non vedo Ok No Ne ho spiegato uno Ok aspetta eh ok non vedo un cazzo ok vai a vederci quanto ho di vita? pochino ho avuto di meglio ok nice ce ne manca una ok ammetto che ho fatto questa insalata più che altro perchè mi sembrava figo aia ma che cazzo ma quanta gente c'è via ah cazzo mi stanno massacrando mi stanno massacrando ok 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 ma qualcuno che mi cui non vi va no non allora aspetta eh scansioni quei è impressionante è veramente impressionante cazzo vedi uno davanti io ti dico primi F per quello davanti no ok ok mi sono spaventato a morte mi sono spaventato a morte possiamo ma sono tutti vicini vai vai andata ok ok ma non cazzo non vedo ok 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 allora ok 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 ma fai a lasciarci grazie io no ti scondio io ok ok Non so bene A che punto siamo Cioè nel senso Perché sono dovuto uscire Vabbè aspetta Mi lo do come facoltativo Lo scansione di nuclei Quindi Ho sbagliato Dovremmo essere Ok a quelli in cui ho chiuso Nel momento in cui ho chiuso Va bene Eh non ci posso Ma perché non ci posso Ok sto Tu Oh Oh l'ho fatta A farne uno Oh ci siamo Bella raga Si Dopo questo abbiamo finito Mi vedessi Mi vedessi Ok Ok Ti prego Fanculo mi son scordato Eh devo andare a fare un'altra cosa Io sono completamente dimenticata Fanculo Devo incominciare di nuovo Va bene Va bene Vabbè Ora me la dai Prima mi è andato per te Va bene Lo son scordato E' andato per te